Quante potate per la società l'ingresso di questi quattro nuovi soggetti per dormire più tranquilli per così dire? Quattro che però rappresentano molti altri come ho avuto modo di elencare prima. Sicuramente è un apporto estremamente positivo che va a contribuire e andrà a contribuire non solo a un consolidamento patrimoniale della società ma anche e soprattutto alla ricerca di nuove forze che possano accompagnarci in questo percorso che è sempre più complicato, sempre più difficile per mantenerci al livello che abbiamo raggiunto. A quanto ammonte il totale delle quote diciamo acquistate dai nuovi soci? Sono poco meno del 50%, mi sembra il 47% quindi è una quota significativa quindi è una minoranza sì ma di rilievo è significativa. E questo significa anche attivarsi maggiormente per la ricerca di nuovi sponsor a questo punto? Certo, non solo ma anche l'aumento magari di altri e nuovi partner che possono accompagnarci non solo sul capitale ma anche con un contributo nel conto economico che sono gli sponsor. C'è un po' d'orgoglio diciamo di essere riusciti ad attirare soggetti così importanti nell'ingresso diciamo in questa società? Moltissimo anche perché siamo in un momento che non è dei più semplici, mi riferisco all'economia che è vero che da qualche segnale di risveglio dicono a Roma ma che comunque direi è sempre complicato quindi avere dei soggetti così importanti che contribuiranno e che contribuiscono a questa società in questa società direi che è un enorme motivo di soddisfazione ma anche importante per il futuro di questa società. Grazie. A voi. Oggi si sancisce diciamo ufficialmente l'ingresso di questi nuovi soci nella Trentino Volley che era già stato diciamo raccontato il 18 giugno, che emozione è per voi? Beh diciamo una cosa importante perché dietro tutto questo discorso è stato un grande lavoro evidentemente però abbiamo avuto il piacere di arrivare in fondo e soprattutto vedere che altri due importanti nominativi si sono aggiunti alla compagine sociale quindi questo non può che darci soddisfazione. Perché investire nella Trentino Volley? Investire nella Trentino Volley perché è un, prima di tutto per la passione, questa è la cosa fondamentale poi perché è una realtà importante per il Trentino anche a livello sociale è una realtà che ha portato il nostro territorio a più alti livelli anche a livello internazionale. E voi avrete anche un ruolo operativo diciamo, lei siederà nel Consiglio di Amministrazione? Sì, certamente semplicemente per dare una mano complessivamente al Presidente per avere giusta rappresentanza evidentemente di quelle che sono le nuove realtà che sono entrate nella società. Grazie! Grazie!